La caserma dei vigi del fuoco di Pescara non avrebbe i controllori della sicurezza. Una denuncia che arriva dal sindacato Consal e che suona come una beffa, visto che al corpo è demandato il compito di verifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle prime righe del comunicato firmato dal rappresentante Rocco Pacella emerge intanto un bilancio definito Amaro, dei tre anni di comando del dirigente uscente Centiche dovrebbe essere trasferito il prossimo 19 dicembre ad Ascoli Piceno. Nemmeno un mattone risulta essere stato messo da parte per la costruzione della nuova caserma, si legge testualmente, e vengono riportati fatti inerenti alla sicurezza dello stabile. In cima, l'avvertenza sindacale della Consal che nel settembre del 2014 informò il Dipartimento dei vigili del fuoco di alcuni distacchi di laterizzi di Solai. Di lì, gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della provincia di Pescara, proprietaria dello stabile e poi del Dipartimento stesso che nel 2015, con risorse proprie su una zona gravemente compromessa, intervenne a causa della mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Consal dei vigili del fuoco di Pescara rimarca anche l'incarico di acquisto della struttura di Valle Pindaro dato al precedente dirigente nel 2019 mai andato in porto, così come le lacune ambientali del terreno, giudicato invece idoneo alla realizzazione della caserma da parte del dirigente. Anomalie che sarebbero state poi convalidate dalla stessa dirigenza qualche mese dopo. E finisce la storia collente, cioè la provincia che a un certo punto decide che non è più intenzionata a vendere la caserma a causa del prezzo troppo basso. Altro argomento caldo, mancano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, figure obbligatorie dalla legge che però sono assenti nel comando di Pescara in maniera inspiegabile. E nel comunicato viene ribadito un accordo che il dirigente uscente aveva preso con le organizzazioni sindacali, anche questo disatteso.